Ciao ragazze, allora io ho fatto un po' un casino, nel senso che avevo ordinato le uova da ragazze e non so che cosa mi sono arrivate queste, quella del trenino Thomas e te chi sei? E Justice League Vi piacciono lo stesso? Cioè lo faccio il video con questi oppure non lo so, provo a fare una magia e vedere se succede qualcosa Vabbè comunque vi dico che se vi interessano li trovate sul canale di Super Alex e il mondo dei giocattoli sul canale di Big Doug e Big Mama, quindi se avete dei fratelli diteglielo Io adesso vedo cosa posso fare in tempi brevi per farmi arrivare le uova da ragazza, ok? Allora provo a fare una magia, mi concentro un attimo perché sono un po' sfasata Ha funzionato! Meno male, stavo già per chiamare il corriere e arrabbiarmi, però con i miei superpoteristi ci sono riuscita Abbiamo uovissimo Barbie e super pasqualone della dottoressa Peluche Siete curiose? Siete curiose? Anch'io tantissimo! E sapete cosa vi dico? Che li vedrete a fare due ore perché io adesso vado a mangiare! Ciao!